L'ex presidente della Camera, la DC candidava Agnelli e gli operai. Io so che cosa rappresenti Tarquinio, non so Salis di cosa sia rappresentativa. Pier Ferdinando Casini, nel mondo cattolico si discute delle polemiche provocate dall'ipotesi che il Partito Democratico candidi Marco Tarquinio alle elezioni europee. Premesso che non c'è nessun consiglio più impopolare di un consiglio non richiesto, e nessuno mi ha chiesto un consiglio, come tutti sanno io non partecipo alla vita del PD, pur essendo doverosamente iscritto al gruppo come indipendente. Ciò detto, la storia però ci può insegnare qualcosa. I grandi partiti della Repubblica, essendo nazionali e interclassisti erano pluralisti nelle loro candidature. Penso, per esempio, alla DC che candidava sia Umberto Agnelli che i rappresentanti della classe operaia. Questa discussione su Tarquinio, perciò, mi appare un po' deprimente e strana, come se tutti i candidati dovessero rappresentare in tutto e per tutto l'ortodossia del verbo. Tarquinio però ha delle posizioni che non coincidono con quelle del PD in vari campi. Personalmente non ho difficoltà a dire che sulla fecondazione assistita mi ritrovo sulle posizioni di Tarquinio, mentre immagino che ci sia grande imbarazzo in una parte del PD che su questi temi la pensa in modo diametralmente opposto. Sull'Ucraina però non la pensate nello stesso modo. Io, come Tarquinio, aspiro alla pace ma il modo in cui secondo me bisogna arrivarci è diametralmente opposto a quello che propone lui. Se non vogliamo che il mondo di domani sia regolato dai Putin di turno, dobbiamo aiutare la resistenza ucraina. E anche l'Occidente ha il dovere di resistere, esattamente come fecero quei partigiani bianchi e rossi che si opposero al nazifascismo. Attenzione, perché se l'Occidente non reagisce, arriva Hitler e perciò pur rispettando le opinioni di Tarquinio non le condivido. Ma la candidatura di un signore che è stato per 15 anni direttore di Avvenire, che è l'organo della Conferenza Episcopale Italiana e che rappresenta una sensibilità diffusa nel mondo cattolico, è comunque un arricchimento. Qui il punto vero della politica oggi, di tutti i partiti, della destra come della sinistra, è quello di riuscire a salvaguardare la propria classe dirigente e nel contempo coinvolgere la società civile, aprendosi alle novità. Anche la candidatura di Ilaria Salis, che pure è stata smentita da Schlein, rappresenterebbe un arricchimento. Io so che cosa rappresenti Tarquinio, non so Salis di cosa sia rappresentativa. Ma io, come tutti, ritengo che la sua condizione carceraria non sia decorosa e degna dell'Europa. È atroce il fatto che venga esibita in manette come un trofeo nel tribunale ungherese. Non so però se quanti di quelli che oggi si scandalizzano per le immagini di Salis si siano scandalizzati per l'uguale trattamento che è stato riservato a Enzo Carra durante Mani Pulite. Io ero tra quelli allora e sono tra quelli ancora oggi. Tornando a Marco Tarquinio, lei dunque non vede nessuno scandalo nella sua candidatura. La ritengo positiva comunque. Si tratta di elezioni europee dove ci sono le preferenze e quindi c'è la possibilità di avere o no il consenso degli elettori. Forse tra le varie riforme elettorali che bisognerebbe introdurre nel sistema politico italiano la più urgente è quella che supera la partitocrazia attuale in cui i parlamentari vengono scelti in base al loro legame con i leader, restituendo lo scettro agli elettori con le preferenze. La loro abolizione ha provocato solo guai e ha fatto proliferare l'antipolitica.